È suonato il cannone, ha sparato il cannone di mezzogiorno, su questo colpo di cannone Fabio Alberti. Grazie. È diventato quasi un vezzo questo, ma le tante cose che succedono poi finora hanno impedito di trasformare questa proposta in cose. Mi scuso fin da adesso per il fatto che non mi tratterò del pomeriggio, ma purtroppo essendo ormai entrato in campagna elettorale, avendo accettato con un po' di tentennamenti la proposta di stare, di essere in lista, quando mi ha chiamato Ragliero Lavalle, insomma, ci sono un sacco di cose da fare. Io volevo, siccome molte cose sono state dette, con le quali come ovvio concordo, volevo provare a dare un contributo partendo dall'esperienza che ho fatto recentemente a Kathmandu partecipando all'ultimo foro sociale mondiale. Che non è stato un foro sociale mondiale, ma è stato un foro sociale asiatico, perché dall'Europa non c'era praticamente nessuno e neanche dalle Americhe, nel nord e nel sud. E cito due cose che mi sono apparse lì evidenti di come da quell'osservatorio veniamo visti noi, noi europei, da come viene vista l'Europa. E la prima è che l'ascito coloniale, la storia della colonizzazione, che da noi è stata messa sotto il tappeto, tanto da non far parte più neanche della nostra identità. Chi si ricorda che siamo stati? Lì è sul tavolo. È sul tavolo e rientra in tutti i ragionamenti che vengono fatti. Faccio un esempio. Quando si parla di clima, prima di parlare di quali devono essere le politiche per affrontare il problema, viene messo sul tavolo il debito climatico. Il ragionamento è, voi, la vostra industrializzazione, il vostro modello di sviluppo ha rovinato il pianeta e noi ne subiamo le conseguenze. E quindi non è una questione puramente tecnica, non è soltanto una questione di transizione dal fossile al non fossile, ma è un problema di giustizia globale. E questo è soltanto uno degli esempi di come la questione coloniale sia sul tavolo. E la questione coloniale è sul tavolo perché è parte costituente dell'identità europea. E' stato citato il suprematismo. Ebbene, la visione di noi stessi europei come superiori è stata costruita nei decenni, nei secoli, attraverso il processo di colonizzazione del globo che, ricordo, meno di un secolo fa riguardava l'ottantacinque per cento delle terre emerse. La seconda cosa che si vedeva lì da Kathmandu, tra gli attivisti indiani, che hanno mantenuto, tra l'altro, una capacità invidiabile, vista dall'Europa di mobilitazione sociale, e il discorso dei diritti umani non regge più. Per molti anni, tra gli attivisti, io conosco più il Medio Oriente che l'Asia, ma tra gli attivisti che si battevano per la devorazione dei diritti all'interno dei propri paesi, l'Europa era considerata un punto di riferimento. Ci si aspettava aiuto, si faceva riferimento al modello sociale europeo e questo è completamente svanito. L'Europa non è più credibile, il discorso dei diritti umani dell'Europa non è più credibile al di fuori di noi che ce lo raccontiamo fra noi stessi. E queste due cose, la memoria della colonizzazione e la non credibilità del discorso dei diritti e della democrazia, stessa democrazia europea viene contestata, messa in dubbio, ma che democrazia è quella che permette? Entrano in contraddizione evidente a Gaza, dove a Gaza queste due cose, e lì, sempre visto da Kathmandu, la Gaza è la prova che il colonialismo non è finito e che i diritti umani sono un pur parlet, diciamo. Perché dico questo? Intanto perché mi sembrava interessante riportare una cosa, ma poi perché Ursula von der Leyen l'altro giorno, il giorno prima in cui il Consiglio europeo ha deciso, io penso che abbia deciso che si invieranno soldati e soldate europei a combattere in Ucraina, io penso che quella decisione sia già stata presa, è soltanto questione se, quando, dove, come vanno le cose, ovviamente, ma il giorno prima Ursula, Ursolina, ha detto bisogna preparare gli europei alla guerra, cioè è in corso, c'è in corso una battaglia culturale a cui siamo sottoposti da tempo, l'ingresso all'esercito nelle scuole, che prepara la guerra che è ormai considerata inevitabile, inevitabile per le cose che sono state dette, l'ultima, chiudo, chiudo con questo, c'è una battaglia culturale sulla visione che abbiamo dell'Europa, sulla prospettiva, come dire, di ordine mondiale che abbiamo da presentare, il recupero della memoria della colonizzazione come parte della storia europea sia importante ed è il motivo per cui, almeno la mia, faccio uno spot brevissimo, la mia organizzazione ha proposto, sta proponendo in Italia di avviare una lotta collettiva per l'istituzione della giornata della memoria delle vittime e del colonialismo, quelle italiane sono 700.000, come sapete, e altrettanto faremo in Europa adesso a Marsiglia dove proporremo di avviare una campagna europea di ricordo delle vittime del colonialismo come parte di una lotta di contenuto culturale contro la deriva bellicista europea. Grazie, Fabio.